E' una persona che si è casciata a te e ci hanno segnalato che probabilmente c'erano un incendio a bordo. La sostanza che brucia? Mi dice Zolfo? Attenzione, deve uscire la squadra NDCR per soccorso a persona con presunto incendio ad interno giornalare. Siamo arrivati nel luogo, stiamo vedendo una persona a terra e ancora cosciente tre uomini con me. Il personale sanitario ha un codice in giallo, sospetto a fattura la gamba. Stendi con la termocamera, danni da poi mi... No! 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 No, 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 no. No, 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 no.